Ciao ragazzi, come state? Come avete visto poco tempo fa sono stata a Parigi e ho fatto un sacco di acquisti Però appena sono tornata a casa mi sono resa conto che tantissime di queste cose non mi servono Perciò ho deciso di metterle in vendita su subito E da venditore ho un sacco di domande La foto giusta da scegliere, qual è il prezzo giusto per il mio oggetto, come spedirla Vi lascio qui in box per accogliere tutte le domande su come vendere su subito Seguitemi per avere le risposte Ciao ragazzi, ci sono, non sono sparita E' che sono tornata da poco a casa, perché oggi sono uscita molto presto alle 9 Perché ho fatto una cosa molto bella e finalmente di nuovo mi sono rimessa in gioco Non è stato facile, perché ho passato la settimana scorsa a non sentirmi adatta Non mi sentivo abbastanza, mi sentivo inutile, mi stavo di nuovo perdendo Per fortuna c'è il mio mental coach Giovanni che mi aiuta tantissimo E mia mamma che mi sprona sempre a raggiungere i miei sogni e a credere in più in me stessa Perché ognuno di noi ha qualcosa da dire Ognuno di noi Bisogna soltanto avere la forza e il coraggio di tirarlo fuori E bisogna poi andare a prenderci quei sogni che ci fanno così tanta paura Perché tante volte, lo noto anche con me, è più facile dire No, non mi riesce, non sono in grado Perché ho paura di uscire dalla mia comfort zone Ho paura di... ho paura di sbagliare Ma è sbagliando che si impara È con i no che si cresce e si lotta per migliorarci E per andare a prendere quel sogno Fin da piccola mi ha affascinato una frase Fai della tua vita un sogno ed un sogno una realtà E io voglio che voi, insieme a me, facciate sì che quel sogno si realizzino Non voglio altro che un sorriso grande Non voglio altro che un sorriso grande Anche se piangerai Lo sai che dopo la notte c'è un sorriso grande Secondo me ci faremo domani molto meglio E quindi piaciamole vita e andiamo a prendersi i nostri sogni Voglio vivere sempre il brivido di star con te Di star con te Cos' you and I won't part till we die You should know We see eye to eye Heart to heart